Mi pare che sia una piazza bella, capace di donare motivazione, così come ha bisogno di motivazione l'Italia, il partito e anche l'insieme delle città che si aspetta molto da questa iniziativa. Abbiamo bisogno di un'Italia che consenta al lavoro di non generare povertà, abbiamo bisogno di un'Italia che consente il recupero del diritto alla pace. La guerra sembra un segmento di Netflix, invece la guerra distrugge, produce sangue, cancella futuro. Questa piazza serve a ricordare che sono valori traino di ogni comunità, di ogni civiltà, la pace, il progresso, la giustizia, la distribuzione delle pari opportunità. Per questo sono nate le istituzioni, per questo la politica recupera senso. Questa piazza ci aiuta a fare in modo che la cittadinanza italiana ricominci a mettersi in cammino.